get to make it with jive boy when it hits you yes yes you when it hits you yes signore e signori ben ritrovati nella red craft molti di voi hanno lasciato un bordello di commenti sono un sacco contento che vi stia piacendo questo progetto è da un po' di tempo che lo volevo fare lo sto continuando ovviamente in creativa perchè non posso mettermi a continuarlo in survival qui in questo mondo per cui come vi ho già detto io lo continuo a costruire in un mondo in creativa e poi porto la lightmatica infatti ecco magari ve lo faccio vedere velocemente se faccio placement on come vedete c'è la schematica c'è lo schema diciamo di quello che ci sarà dopo e che verrà costruito ovviamente da me off camera perchè non ci sono purtroppo timelapse che si possono fare dato che non c'è ancora la replay quindi mi dovrò mettere con calma e costruire questa roba grazie per tutto il feedback che c'è stato nello scorso video non è passato molto tempo appunto dallo scorso video e infatti vi sono portato avanti di poco come vedete questa parte di montagna la stavo per finire tra virgolette molto molto tra virgolette perchè c'è tanto ancora da fare qui ci sono buchi vedete pure da quest'altro lato qua va sistemato un sacco e poi ovviamente stavo delineando un pochino la situazione qui come vedete stavo iniziando già a mettere i blocchi di stone per cominciare ad alzarci verso lato perchè giustamente qui è tutto piatto fa schifo però insomma andava fatto ovviamente andava distrutta a sta montagna perchè era gigantesca quest'oggi continueremo ovviamente il castello intanto però il buon hero che cosa ha combinato che lo ringrazio tantissimo perchè si è messo di pazienza e ha portato un pillager signori un pillager qui come vedete è chiuso dentro questa sorta di gabbia di vetro direte voi ma perché come sapete sarà popolato questo posto questa dimora sarà popolata ci saranno servi ci saranno non lo so magari maghi giusto per citare un pochino Harry Potter perchè mi piace molto Harry Potter e non sarà popolata questa zona solo da villagers ma sarà popolata anche da pillagers e direte voi ma scusami i villager non muoiono i pillagers se li disarmate infatti questo non ha armi vedete non calcolano più i villagers cioè è come se avessero paura come se avessero timore per sempre per cui non li calcolano più e fanno i fattacci loro non calcolano nemmeno te una cosa incredibile non so se è voluta questa cosa cioè non ti prendono a pugni è stranissima eppure siamo nella 1.15 cioè loro sapevano i sviluppatori di Minecraft che sti tizi una volta tolta la balestra non facevano nulla infatti vedete non ha senso però a noi non fa altro che piacere perchè immaginatevi una zona completamente chiusa qui dove nessuno può fuggire e possono restare tutti solo dentro questo castello immaginatevi popolato da villager e pillager che non si attaccano fra di loro non hanno paura oddio forse i villager potrebbero aver paura sì vabbè quelli sono stupidi ma in ogni caso noi li inseriremo in punti specifici e mirati nel castello purtroppo non l'ho finito ancora nemmeno in creativa si dovranno fare un bordello di cose tantissime bisogna finire questa parte qua della chiesa perchè non so se me ne siete resi conto ma questa sarà la chiesa infatti si nota pure dalla vetrata sarà la nostra chiesa del nostro regno della nostra dimora perchè anche in epoca post medievale diciamo i regni erano fatti in questo modo per cui signori a questo punto continuo questa costruzione off camera e ci vediamo diciamo a costruzione continuata tra virgolette ecco mi sono dimenticato di fare una screen del prima in modo di farvi capire com'è il dopo quindi adesso ho aggiustato un po' le montagne vedete lì c'era un buco enorme non so se ricordate che ho coperto adesso la montagna è più regolare più naturale se così possiamo dire ho coperto principalmente tutti i buchi e poi ho costruito quella roba lì ma tra poco ci arriviamo poi mi sono reso conto che il pillager che stava qui non c'era più ora non so che caspita avranno combinato con lui ma ne ho trovato un altro che era tipo lì in mare sopra una barca quindi che cosa ho fatto l'ho preso e l'ho portato qui eccolo che tra l'altro si chiama schiavo non so che caspita abbiano combinato Iroh e gli altri ma c'era quest'altro che aveva anche la balestra in mezzo al mare l'ho lasciato sparare un po' e ha finito le sue frecce quindi è bastato comunque poco l'altro dove sta? riportatelo per cortesia perché mi servono tanti tanti pillagers signori ah poi ovviamente lì ricordate c'era la stone lì a terra ecco ho coperto tutto comunque entriamo nel nostro castello anzi non entriamo vediamo un attimo la situazione da fuori da qui perché come potete vedere c'è una leggera cioè come potete vedere magari non lo notate però c'è una leggera modifica per quanto riguarda la muraglia qui ho spinto ancora più dietro questo muro perché non vi piaceva come si era andata a creare la curvatura mi interessava appunto fare una curvatura ma non si vedeva abbastanza ora se ci mettiamo magari in un punto alto possiamo notare che c'è una leggera curvatura è più marcata rispetto a come era prima che probabilmente non avete visto è una cosa che ho notato io nel mondo in creativa però adesso ci rimarrà troppo regolare la situazione comunque ho inserito anche questa torre molto carina tra l'altro si va anche ad incastonare mi piace questa cosa di costruire un castello che ha torri e abitazioni insomma incastonate tra di loro mi piace un casino quella torre chiatta chiamiamola così non è altro che questa torre qui che cosa ho fatto ho semplicemente preso la faccia di questa torre è giorno notte è giorno e ne ho fatte quattro per poi metterci anche la punta vedete lì molto carina sembra una sorta di cappello proprio come i maghi tipo no non sta tramodando smettila ho continuato ovviamente la situazione qui ma comunque uffa un cavolo tanto lo stesso andrò sempre a dormire sapete bene la mia missione è essere il bedman della situazione comunque mi sono fermato fin qui come vedete ci sono le stringhe sopra questi wall perché altrimenti non si creano le punte in ogni caso vi faccio vedere velocemente anche un pochino l'interno interno per modo di dire perché comunque è tutto molto aperto molto schifoso mi piace come si è andata a creare questa situazione proprio prima di registrare mi sono accorto che ho fatto un errore questo muro deve essere della stessa altezza di questo anzi viceversa questo deve essere della stessa altezza di questo e infatti questi pezzi che stanno qui sotto sono un pochino più bassi regolerò questa cosa ovviamente off camera e poi voglio fare un'altra modifica questo pezzo vedete questa roba in diagonale non è altro che la base di questa torre sinceramente possiamo eliminarla tanto chi se ne accorge cioè si vede da fuori una bella base vedete questa roba qui quindi la eliminiamo e rendiamo regolare questa situazione che c'è qui poi il tutto qui dentro verrà abbastanza stretto in questo punto tranquilli perché è tutta una roba studiata probabilmente ci sarà un altro spiazzo con una curvatura che creerò qui non lo so non lo so però ho delle idee intanto in questo punto c'era dello spazietto e ho voluto lasciarlo aperto non ho voluto chiudere e ci ho voluto mettere proprio queste porte perché mi piace potrebbe essere un magazzino qualcosa non lo so di qui oppure ho lasciato aperto perché voglio raggiungere i piani superiori tra l'altro devo togliere quei vetri perché fanno schifo per terra come state vedendo c'è la stone l'andesite e un po' di cobblestone ai lati perché ho deciso di eliminare la terra dato che in questo punto probabilmente sarà tutto formato da strade perché sinceramente mi piacerebbe creare una salita leggera vedete in questi punti fatta in questo modo secondo me potrebbe funzionare un sacco non lo so comunque io faccio sempre continue modifiche lo sapete molto bene quindi potrebbe essere anche che eliminerò la strada fatta in quel modo non lo so allora il buon hero come vedete ha portato altri tre amichetti qui ora allontaniamoci un attimo perché mi dà fastidio che si sentono tutte queste balestre è molto semplice questo gabbiotto che ci permette di aspetta sto registrando per cortesia grazie permette a loro di spararti però senza prenderti diciamo con la freccia infatti come vedete c'è della neve qui permette a loro di vederci però di non riuscirci a prendere appunto comunque sono altri tre come vedete c'è un collegamento nel nether molto semplice che vabbè non sto qui a farvi vedere se no questo video verrebbe super lunghissimo c'è molto da parlare infatti come vedete in quei punti c'è della roba nuova che bello non vedo l'ora di farvela vedere perché sta venendo una figata vi faccio vedere però che ho messo più alberi come potete ben notare da quest'atmosfera che si è creata qui devo togliere ecco questi cosi da questi punti perché sinceramente sono brutti proprio da vedere in questa situazione e tra l'altro non so se l'avete notato ho iniziato a decorare anche gli alberi stessi nel senso che mi dava fastidio il fatto che si vedessero solo ed esclusivamente leaves normali quelle di hawk infatti in questi punti ho messo anche le birch leaves c'erano un sacco di alberi di birch in questa zona vedete ce ne sono ancora in questi punti e mentre li distruggevo ne ho approfittato ho preso anche le leaves di questo tipo di albero che sono di un colore diverso è un dettaglio in più un dettaglio in più che sicuramente ci sta molto molto bene ho messo anche delle fence che uno di voi mi diceva nei commenti metti anche delle fence per far capire che insomma la strada continua però non è fatta come questa ecco prima di entrare facciamo una cosa andiamo a prendere il cavallo perché ho fatto anche un minimo ma proprio un minimo di quello che potrebbe essere l'interno dell'entrata solo che ora c'è un problema come faccio a portare il cavallo direte voi diciamo che un sistema l'ho trovato ho messo le trapdoor qui in modo che se apri in questo modo ora non riesco a vedere attraverso sta testa del cavallo però se apri in questo modo ecco ci andiamo a far male semplicemente quindi apri anche di qui se apri in questo modo riesci a passare prendendo un colpetto alla testa però riesci a passare per ora sto utilizzando questo metodo però salve chi è? Iro? salve in futuro sicuro si farà non lo so un'entrata diversa devo vedere un po' eccoci qui come vedete l'entrata è fatta in questo modo c'è una strada che sale piano piano qui molto molto bello e ho iniziato a mettere anche qualche particolare in legno in questo punto ho messo una sorta di zona che potrebbe servire per fermare i cavalli una sorta di stalla io inizialmente la volevo fare lì infatti si vede anche da questo portale fatto in questo modo però sinceramente non lo so non lo so forse qui ci sta molto bene oppure qui potremmo fare tranquillamente dei depositi negozietti li potremmo chiudere proprio effettivamente ci devo pensare intanto il cavallo possiamo inizialmente non lo so fermarlo qui non è frizzato quindi si muove lui cammina possiamo mettere più di un cavallo in questi punti e quindi rendere la cosa un pochino più realistica intanto vi spiego pure che cosa ho combinato tra una clip e l'altra ho lavorato un sacco per quanto riguarda proprio l'estetica il continuo di questa roba come vedete c'è una torre lì nuova più alta di tutte le altre e poi c'è questa torre chiatta chiamiamola così che è uguale a questa qui con anche questa finestra finestrata non so come chiamarla insomma questa balconata ecco una finestra che tra l'altro è fatta anche un pochino in diagonale qui mi sto divertendo nel fare costruzioni anche un pochino in diagonale perché mi devo adattare giustamente vi faccio vedere la torre da questo punto vedete molto molto semplice a dire la verità perché è molto quadrata molto alta e se non ci fosse stato questo pezzo qui si sarebbe vista un pezzo unico alto che sarebbe stato pure brutto da vedere infatti poi in futuro dall'altra parte quindi dopo questa torre qui probabilmente costruiremo qualcos'altro che si va ad attaccare a questa perché singolarmente questa è proprio brutta deve essere sistemata con qualcosa all'intorno poi ovviamente faremo anche finestre qui è tutto molto vuoto in questo punto in ogni caso come vedete questo concept sta pure qui molto semplice unico infatti potremmo utilizzare questo per spazi più stretti ad esempio anche qui in questi punti ci potrebbe stare una roba del genere come vedete all'interno ha il log di legno normale per dare un pochino di profondità intanto qui ci fermiamo si arriva fin qui e non c'è più nulla come vedete c'è il vuoto più totale bruttissimo da vedere proprio brutto è come stare a cinecittà è una vera e propria scenografia cammini per dilietti sembra tutto vero poi arrivi di qui e vedi tutto questo schifo veramente bruttissimo ho finito l'enderpearl che fastidio ma quanti di voi stanno nascendo momone aveva ucciso un altro basta basta cosa vedi tu niente di interessante vai via via datemi la lead a questo punto dato che può essere interessante sempre grazie è pure la pelle quindi niente mi sono fermato fin qui ho costruito anche quest'altro pezzo di muro che è simile a questi qui che già stanno in questi punti poi lì ho messo una roba che ancora dovevo costruire in questo contesto ovvero una sorta di palazzo ha addirittura un tetto fatto in questo modo molto carino con i contorni fatti con gli stone bricks e quant'altro mi piace mi piace molto poi dovrà continuare infatti ora devo riuscire ad atterrare una parte del genere così vi faccio vedere meglio il tetto lì è più piccolino e mi piace questa cosa in modo che ne metterò uno qui piccolo e poi si ritorna con questo qui poi vedremo un pochino come continuare anche qui diciamo all'interno del palazzo perché qui ci sarà molto probabilmente un altro spiazzo comunque a livello di interni come vi ho fatto vedere ho sistemato questa roba qui che potrebbe essere vi ripeto una sorta di stalla e qui non ho fatto nulla però c'è un collegamento a quella balconata però prima di arrivare a quella balconata giustamente c'è un percorso per arrivare a questa perché non ci puoi arrivare da lì ci puoi arrivare da qui infatti qui ci ho messo una porta come potete vedere devo ancora togliere sta roba ecco fammela togliere da qui direttamente c'è un collegamento finalmente al piano di sopra delle torri ecco qui potrebbe essere molto probabilmente un deposito o qualcosa qui ci metteremo cose ma intanto vi faccio vedere com'è che ho impostato la salita come vedete è a chiocciola con un muro un pochino più spesso mi sono fermato fin qui perché poi dovrò vedere come fare però come vedete l'interno qui l'ho portato avanti ho messo un soffitto fatto in questo modo bellissimo qui ci ho messo delle colonne anche per sostenere la situazione sto cercando di eliminare la vista di questi tetti no che ho combinato no devo correggere quella cosa scusatemi ok eccoci qui corretta questa roba come vedete prima di mettere questo blocco ovviamente vi stavo dicendo che sto cercando di coprire la vista di questo tetto rosso e infatti come vedete in tutti questi punti sto mettendo un soffitto mi sono fermato qui giusto per far vedere anche la situazione mi piace molto come sta venendo questa cosa dobbiamo ancora metterci gli abitanti all'interno di questo costello ma come ovviamente sapete non possiamo farlo ancora perché tutto molto aperto potrebbero fuggire eccetera eccetera qui c'è il collegamento vedete qui possiamo fare effettivamente proprio un piano tutto chiuso dove ci si collega questo balcone questa finestra questa roba insomma poi qui ovviamente c'è il solito carrettino che utilizzo ormai sempre mi piace un casino funziona molto bene veramente un design molto compatto ci sta un botto intanto signori io mi fermo qui c'è stato molto progress ma principalmente mi voglio fermare perché oggi signori è il mio compleanno e quindi voglio far uscire il video proprio il 13 di gennaio ovvero il giorno del mio compleanno e questa è una scusa anche per dirvi che dovete farmi tutti quanti gli auguri scrivete di brutto auguri buon compleanno quindi signori io spero che questo episodio vi sia piaciuto datemi ancora consigli ditemi se vi sta piacendo questo progetto ci vediamo in un prossimo episodio seguitemi su telegram seguitemi su instagram attivate la campanellina di youtube e ciao a tutti ragazzi ok 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 ok